Ciao ragazzi, come state? Bentornati sul mio canale Oggi dopo... tanto insomma Dopo tanto no, perché vi ho caricato di recente un video sui BT Propag Se l'avevo girato... non so quando Tipo l'anno scorso forse Sapete che sono un po' indietro con i video da caricare Quindi... insomma Dovete capire, non è stato un bel periodo Quindi ritorniamo con i Funko BT Pop Questa volta andrò a fare la serie di Avatar The Last Airbender Perché? Perché mi è piaciuto tantissimo l'anime Proprio l'hanno fatto bene, mi piace tantissimo la storia E quindi voglio appunto fare la collezione Come per tutti i BT Pop ce ne sono sempre 16 da collezionare E hanno sempre all'interno il... Diciamo il porta BT Pop trasparenti Ne abbiamo 4 misteri Quindi si possono trovare doppi come no lì È un po' a caso, a fortuna direi Comunque ragazzi ne stanno uscendo tantissimi Hanno fatto... vabbè C'era quello della Marvel che ho fatto Le principesse l'ho fatto Della Disney l'ho fatto Poi è uscito la DC È uscito Harry Potter È uscito Friends Quello di Halloween Quello del... Come si chiamano? Dei Vestler E poi... Quello dei Minions Mi sembra basta Comunque veramente ce ne sono tanti Ah, è anche quelli di Toy Story Che mi piacerebbe tanto prendere Ma sto aspettando sempre che scendano di prezzo Ormai i negozi in cui andavo Non li tengono più Cioè ci hanno rinunciato Su Amazon li trovate Ma vanno dai 14 ai 16 euro Più o meno Poi sapete che con Amazon variano Questo sono riuscito a prenderlo In promozione a 11 euro Quindi... L'ho preso Gli altri tre non erano scontati Quindi quelli aspetteranno Bene Andiamo subito ad aprire Allora Ah, vediamo aspetta Vediamo subito chi vorrei trovare Beh, ovviamente lui Sì, decisamente lui Vorrei trovare Hang Allora Onestamente non mi ricordo tutti i nomi Quindi Perfetto di ci sono scritti Però Penso che veramente sia Sia una bella storia Sinceramente Mi piace anche La trasposizione a film Che hanno fatto Anche gli attori Sì No, l'hanno fatto film o serie tv? Non mi ricordo Perché ultimamente su Netflix Fanno un po' Un film Lo dividono in serie Cioè Non lo so Comunque Mi è piaciuto anche quello Gli attori li trovo Cioè Li hanno trovati belli Belli insomma Appropriati Ecco Mettiamoli così Ok Quindi In Questo Set Mm Se li hanno fatti un po' diversi Questi Oh Forse sì Ragazzi Li hanno fatti nuovi Perché vedo un gancetto qua Mm Una cosa positiva Però Non vedo nessun gancetto Per attaccarli Cioè Che non sbrissino Quando li mettete Uno sopra l'altro Vabbè Non si può pretendere Troppo Allora Iniziamo da Asula Che è la sorella Di Zuko Che è lui Cosa c'è scritto Asula 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 Non riesco mica a leggere Ragazzi Sono diventata Orba Mi sembra che Praticamente Stia Facendo i fulmi Se non erro Comunque Comunque Lei è la principessa Del Regno del fuoco E lui appunto Il suo fratello Questa è la 1079 Allora Vediamo se si possono Sì Si possono comunque Di nuovo Aprire Belli Cioè Diciamo che comunque Adoro Quando queste cose così piccole Sono realizzate In ogni caso Bene Perché a volte Quando sono cose piccole Non danno peso Quindi le fanno Non dico male Però è chiaro Che è più difficile Realizzare Dei particolari Se questi oggetti Sono molto piccoli Molto Molto Bello Poi Abbiamo quindi Zuko Che è il 538 Un po' sfalzato Ah perché Questo probabilmente È uscito prima E quindi Questo è uscito dopo Sì effettivamente I numeri sono Un po' distanti Bello Bello Diciamo La bruciatura La cicatrice L'ho fatta forse Non lo so L'avrei fatta magari Di un altro colore È chiaramente evidente Però Ok Poi abbiamo Ty Lee Che è L'amica Di Una delle Due Mi pare Sono due o tre No sono due Delle due amiche Di Asula Asula Non mi ricordo Deveva l'accento È tanto che non l'ho Che l'ho visto Quindi non mi ricordo Molto bene Lei mi piace molto Anche come Personaggio Guardate che bella Treccia Che ha Anche lei È un'ottima Combattente Sempre del Regno Del Fuoco Ok Ora Scopriamo Il personaggio Mystery Chi sarà Chi sarà Vabbè Facciamo così Siamo prima Il 539 Quindi va Dopo Zuko Presumo Che Sia Forse Questo Che è Lo zio Infatti È lui Aero Che è lo zio Appunto Di Asula E Zuko Il 539 Certo che Non lo so Fatto azzurro Non mi ricordo Perché essendo del Fuoco L'avrei fatto Di un altro colore Però Mi sembra Che c'era Una scena In cui Talmente potente Era il Fuoco Che si trasformava In Saetta O Fuoco Blu Non me lo ricordo Comunque Sono sicura Che loro Sono nel Regno Del Fuoco Questo sono sicuro Al 100% Allora Proviamo a metterli Nella nuova Teca Ragazzi Sì Vabbè Allora Se lo sbattete Se lo sbattete Cade Se no Resta fermo Bello Bello Bravi Che ci avete pensato Dovevate pensarci prima Però Perché adesso li vorrei Tutti fatti così È un peccato Che non si possano Acquistare Separatamente È veramente Un peccato Cioè vi ricordate Che facevo così E cascavano giù tutti No vabbè Ottimo Ottimo Sono molto Soddisfatta di questa cosa Complimenti Adesso bisognerebbe Solo capire Di trovare qualcosa Per Bloccare Diciamo Quando mettete Uno sopra l'altro Questi espositori Comunque Molto molto Bello Sono contenta Sicuramente Acquisterò Anche Gli altri Però diciamo Che Ci sta Sono tutti Quattro personaggi Del Regno del Fuoco Quindi Sono contenta Di questa Famiglia Ecco Si è ricreata Un po' La famiglia Il prossimo Che vorrei Acquistare È questo Con Hank Questo L'adorabile Ho visto Una figure Un action figure Su Amazon Che costa Anche relativamente Poco Quindi un po' Mi stupisce Che bellissimo E invece Non hanno fatto Nessuno Con la scimmietta Ah no Sì Eccola qua Bello Bello Ok Lei è del Regno Dell'aria No Della terra Poi Ci sono Beh Loro Due Sono del Regno Dell'acqua Avete sentito I gatti Ma non è Ora di Mangiare Quindi Vabbè Ma del Regno Dell'aria Scusate C'è solo lui Quindi Effettivamente È l'ultimo Rimasto Insomma Elisa Che cosa combini Bene ragazzi Quindi Sono contenta Sono soddisfatta Voi cosa ne pensate Scrivetemelo giù Nei commenti Mi raccomando Io comunque Vi lascerò il link Di affiliazione Di Amazon Magari farò la ricerca Completa Quindi Li troverete Insomma Spero che riusciate a trovarli Tutti a quattro Dipende da quando Andrete a cliccare Sapete che È il link Di affiliazione Quindi Amazon Mi Dà una piccola Percentuale In base Al venduto Insomma Quello che Acquistate Sapete che a voi Non cambia assolutamente Nulla Voi pagherete Il prezzo Che vedete A me Aiuta A mantenere un po' Il canale A riuscire a comprare Altre cose E quindi mostrarvi Nuovi contenuti Bene Quindi per oggi è tutto Mi raccomando Iscrivetevi quindi Al canale Un mega bacione Ci vediamo Al prossimo video Non mancate Ciao